1500 metri ma c'è una vista che tante cime di tre o quattro mila metri tutta rotonda se c'è lo buco del lago c'è una vista che è molto difficile Sì. Grazie a tutti. Andiamo a sederci al sole a mangiare? La colla. Andiamo a sederci al sole. 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 Andiamo a sederci al sole.